I ricercatori Fabio Conti e Fabrizio Bartolucci del Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino, gestito in collaborazione dall'Università di Camerino e dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, hanno descritto una specie nuova per la scienza, l'Oxitropis ocrensis, la stragalo del Monte Ocre. Dopo essere stata segnalata ai ricercatori, la pianta è stata oggetto di uno studio morfologico comparativo con le specie affini che si rinvengono sulle Alpi e nella penisola balcanica. Le differenze riscontrate hanno permesso di darle il nome di astragalo del Monte Ocre, dedicato al monte sul quale vive. Sembra incredibile, hanno dichiarato i due ricercatori Conti e Bartolucci, ma il nostro territorio riserva ancora delle sorprese e spazio per l'esplorazione botanica. La stragalo del Monte Ocre arricchisce il già ricco patrimonio floristico abruzzese che annovera ben 3.190 piante autoctone tra specie e sottospecie. L'Abruzzo si colloca al quarto posto in Italia per numero di entità autoctone dopo Piemonte, Toscana e Lombardia.